Si vede, vedete, 2017, ottobre 2017, il titolo è Asterix e la transitalica, parla in sostanza di un'aggressione contro l'Italia, quindi la storia 2017, ripeto, il condottiero che sferra l'attacco gallico contro Roma si chiama in modo particolare, con la maschera, vedete, con la maschera e si chiama coronavirus, eccolo, il grande coronavirus e il suo fedele bacillo, eccolo qua, coronavirus, coronavirus, coronavirus contro l'Italia, eccolo qua, il coronavirus che corre veloce contro l'Italia, vedete come nella...